Ciao io sono il Salutatore e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan. Un saluto a tutti i miei fan che ancora non sapevo di avere. Ce ne hai tantissimi e soprattutto ai fan di Temptation Island. Ciao a tutti ragazzi. Un saluto al Salutatore. Grazie è un onore. Ciao.